Il Festival del Futuro, per definizione, è dedicato ai giovani, che sono quelli che man mano prenderanno le nuove responsabilità. Perché i costi del disastro climatico saranno di proporzioni tali che metteranno a rischio la stabilità del sistema finanziario. Quindi l'intelligenza artificiale avrà certamente un impatto enorme in tutti gli aspetti umani del business, dell'educazione, della medicina. Noi passiamo da una fase in cui per vent'anni abbiamo digitalizzato tutto, processi, prodotti, servizi, informazioni. La fase successiva è una fase di robotica. La fase successiva è una fase di robotica.